Scatti d'autore in un contesto speciale. Si è chiusa con un grande successo di pubblico e critica la mostra We Love Photo and Light, una carrellata di scatti di eccezionale qualità, firmati da autori dotati di una particolare sensibilità. La mostra, organizzata dall'associazione We Love PH, è stata allestita nella suggestiva sede di Via della Zecca, nel centro storico, e si è aperta con un incontro conferenza con il pluripremiato fotoreporter Ivo Saietti. Una speciale occasione di confronto, durante la quale Saietti, che non esponeva lavori a Lucca, ha spiegato i suoi reportage. In esposizione, invece, opere del Circolo d'Almine, del Circolo Il Cupolone di Firenze, del Laboratorio FIAF di Lucca, Pisa e Livorno, e tre collettive della We Love PH. L'idea della mostra è nata dopo un periodo di lockdown che ci ha costretti a stare fermi senza poter fare nessun evento, e ci è venuta la voglia di ricominciare. E questo è stato il nostro primo evento post-lockdown. Oltre alle collettive, l'associazione ha curato anche le personali di Sandro Lasco e di Laura Pantaleoni, Monica Parisi, Matteo Toccafondi e Mario Mencacci, vincitori del Circuito Off 2020. Abbiamo i vincitori del Circuito Off, i tre vincitori del Circuito Off e la vincitrice della sezione Junior del Circuito Off, che è una manifestazione che si svolge sempre grazie al nostro Circolo e l'anno scorso non si è potuta fare, coinvolge i negozi e le attività di Lucca a centro e quindi abbiamo deciso, se non altro, di esporre le foto dei vincitori per dare merito a loro.